C'è un'altra contraddizione in via Cesare Battisti. Mentre il traffico a causa dei cordoli davvero impazzisce, va in tilt, soprattutto nelle ore di punta, scopriamo, anzi lo sapevamo ma vogliamo meglio evidenziarlo alla vostra attenzione, che proprio in via Icco c'è il parcheggio di piazza Icco. Però non c'è una insegna, una scritta, bella, visibile, grande, che avvisi i cittadini dell'esistenza di questo parcheggio. E allora se vi fosse una scritta visibile, ben visibile appunto, il cittadino tranquillamente potrebbe deviare e parcheggiare lì. Lo vedete, libero, ma è un'insegna luminosa molto piccola e molto distante, quando invece sarebbe certamente più opportuno una bella insegna, piazzata qui o piazzata lì, come dire, un'insegna luminosa, lampeggiante, che inviti il cittadino a parcheggiare in questo parcheggio, che quasi sempre è deserto. Vedete, c'è una programmazione carente da parte dell'amministrazione comunale e molte volte la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Si va avanti a furia e a forza di provvedimenti, ma questi provvedimenti non sono, come dire, messi in connessione tra loro. E questo parcheggio, quello di piazza Icco, giace tristemente deserto. Grazie. Grazie a tutti.